bentornati a una nuova puntata di in cucina con lo chef oggi faremo delle tagliatelle con un ragù di guanciale e cipolla rossa andiamo agli ingredienti che sono olio extravergine di oliva delle tagliatelle artigianali sale cipolla rossa guanciale polpa di pomodoro prezzemolo e peperoncino e ora andiamo alla preparazione padella praticamente già calda iniziamo con l'olio facciamo scaldare leggermente l'olio poi cominceremo con la cipolla qualcuno ogni tanto mi dice che io uso troppa cipolla queste ricette nuove diciamo ho cercato di usarla meno però questa è una ricetta che mi piace tanto e la cipolla è l'elemento essenziale quindi abbiate pazienza ma allora la cipolla la facciamo andare un attimino nel frattempo mettiamo l'acqua a bollire mettiamo del sale vedrete la velocità con cui andrà in ebollizione grazie a questi nuovi sistemi di riscaldamento che ci aiutano a raggiungere temperature molto più velocemente rispetto a un fornello normale ecco intanto la cipolla è rosolata aggiungiamo il guanciale facciamo rosolare guanciale lo tagliato più o meno dello spessore della cipolla ok mentre rosola andremo aggiungere un po di peperoncino non ho messo tanto olio anche perché poi il guanciale porterà comunque anche lui un po di grasso ok anche il guanciale rosolato ora aggiungiamo la polpa di pomodoro ok ok perfetto aggiustiamo di sale ovviamente non esageriamo perché il guanciale è già saporito Ok, abbassiamo leggermente la temperatura, nel frattempo l'acqua praticamente sta iniziando a bollire in maniera molto rapida, andiamo a gettare le tagliatelle. Facciamo cuocere la pasta, il tempo di cottura della pasta e del sugo è più o meno la stessa, 2-3 minuti e poi andiamo a scolare e a impiattare. La pasta è pronta, andiamo a metterla in padella e a saltarla. Perfetto, mentre la saltiamo aggiungiamo un pochettino di prezzemolo. Perfetto, ed ora andiamo a impiattare. Ok. Ecco qua. Per gli amanti della cipolla tagliatelle con cipolla rossa e guanciale. e noi ci vediamo alla prossima puntata. 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 Alla prossima puntata.